E parliamo di scuola, molti professori delle superiori trascorreranno il fine settimana in classe a occuparsi degli scrutini. Tra i sindacati c'è già chi protesta, c'è tempo fino al 18 giugno, dicono, per completare i tabelloni. Lavorare di domenica invece è una lesione dei diritti dei lavoratori. Cinzia Dicianni. Successo pieno dello sciopero degli scrutini indetto dai sindacati di base della scuola, al quale hanno aderito poi tutte le sigle confederali. I sindacati e provveditorato concordano su una valutazione che, in attesa di dati certi, va dall'80 al 90% di adesioni in tutto il Piemonte, con rare eccezioni come l'Istituto Comprensivo di Valenza, nell'Alessandrino, dove tutto si è svolto regolarmente. All'Istituto Avogadro di Torino, ad esempio, che conta 1700 alunni su 65 classi fra diurne e serali. Siamo arrivati al 60% degli scrutini bloccati. Noi oggi facciamo scrutini dalle 8 di mattina alle 20 e 30, ma questi erano già programmati così. Quindi oggi stiamo facendo il calendario come già era stato deliberato. Il recupero del blocco, perché immagino che questo sarà nel pomeriggio del lunedì, pomeriggio e serata del lunedì e del martedì. Diverse le contromisure messe in atto nei vari istituti, dove in alcuni casi è stato chiesto agli insegnanti di recuperare di domenica. A questo proposito, Giuseppe Iaria, a nome dei Cobas, ha inviato una diffida ufficiale al Liceo Gioberti, all'Istituto Giulio, alla Scuola Media di Via Revella a Torino, giudicando la convocazione irregolare. Il Liceo Gobetti avrebbe già rinunciato, rimandando tutto alla prossima settimana. Qualcuno farà la domenica, qualcuno soltanto parte di questa giornata. Insomma, si è cercato di concordare anche molto spesso con i professori all'interno delle scuole, per essere di minor disagio possibile, fare le cose ben fatte.